buongiorno sono pietro colombo sono un ricercatore di informatica presso il dipartimento di scienze teoriche applicate e sono un membro del social strict lab che è un laboratorio di ricerca della nostra università diretto dalla professoressa elena ferrari che si occupa dello studio di soluzioni innovative per la protezione della sicurezza e della privacy dei dati in svariati ambiti applicativi in particolare la mia attività di ricerca riguardo riguardo lo studio di soluzioni innovative per la protezione della privacy per piattaforme big data siamo ormai infatti entrati nell'era dei big data è un numero sempre maggiore di utenti utilizza servizi e tecnologie come chat email social networks per interagire continuamente per vari scopi per varie finalità tra i dati che vengono scambiati che vengono collezionati dai provider di tali servizi ci sono dati anche di natura personale sensibile e avanzate tecniche di analisi e di mining permettono di estrarre informazione profilare gli utenti estrarre informazioni preferenze e attitudini che possono essere poi utilizzate per finalità commerciali pertanto opportuno studiare e proteggere i dati con tecnologie con soluzioni efficaci la mia ricerca i miei studi sono quindi finalizzati alla definizione di meccanismi e tecnologie di protezione dei dati che permettono però allo stesso tempo all'utente di percepire la stessa user experience riguardo alla produzione del servizio gli ambiti applicativi della mia ricerca sono molteplici e vanno dai sistemi dalle piattaforme no sql che vengono tipicamente utilizzate nel back end gestione dati di servizi web come social networks e motori di ricerca all'internet of things con ad esempio studi mirati al controllo dell'accesso ai dati generati da smart objects come smart watch e smart tv che sono entrati prepotentemente nella nostra vita quotidiana